Ci ricordiamo nell'ultimo episodio, cioè nella prima parte, quindi nell'ultimo episodio, avevamo subito dei danni, ci avevano picchiato, infatti stiamo essendo curati da questo dottore molto gentile. E di là vediamo che c'è la scimmia che sta ricostruendo lo specchio, che è quella merdosa di Crane, ha distrutto alla fine del capitolo precedente. Comunque noi ci siamo rimessi, siamo in forza, madonna, abbiamo una violenza addosso. Allora, devo andare a trovare Crane. Vai Wolf, Bigby, sei forte e potente. Cosa c'è? Senti male? Abbiamo poco sonno, un po' di sonno arretrato, poi siamo stati sparati. Ma io voglio sapere... Oh, aspetta, forse è viva, sta parlando di Holly, quindi probabilmente è viva. Ci ha consigliato di darci una calmata. Non rompere il cazzo, non rompere il cazzo, non rompere. Non è mica colpa nostra che succedono questi casini, noi dobbiamo arrangiarsi. Sei brutto tu, che animale sei? Un castoro maldiviano. Ciao Snow. Snow. La città sta scoprendo quello che è successo. Arrivederci, signor castoro maldiviano. Oh, che mi ha dato? Mi ha sbloccato la voce del castoro maldiviano nel libro delle fable? Che c'è? Ok, riassumiamo la situazione, perfettamente. Ok, allora, Crane ci ha visto guardare le robe e scoprirlo, quindi ha distrutto lo specchio. E Buffkin ha visto tutto, a quanto pare. Però se ricostruisce lo specchio potremmo utilizzarlo per aiutarci a scoprire dove si trova Crane. Quindi possiamo aspettare che lui rimetta insieme lo specchio. Abbiamo altre... Abbiamo altre possibilità, oltre a aspettare che la scimmia rimetta insieme lo specchio. Non penso che sia capace. Di solito lancia la cacca. E beve. No, calmati. Sì, penso che sia stato Crane. Vabbè, oddio, allora. Ehm... No. Non lo so, non credo, sinceramente, che abbia ammazzato. Sicuramente aveva le mani nel fardello. Questo ne sono proprio certo. Era un codardo, un bugiardo. Sì, sono d'accordo. Era un lumacone orrendo. Ehm, che schifo. Ha detto che... No, odia Crane per averla tenuta nei suoi pensieri in quel modo. È un modo molto elegante per dire che ti ha messo le mani nel fardello. Beh. E mi dispiace per Olly. Gli abbiamo rovinato il funerale della sorella. È stato abbastanza brutto. Non so se è morta, non credo. Sì, sì, sì. È viva, è viva. Eh viva, ce lo sta dicendo Snow. Ci vuole fare una domanda? Sì? È personale. Uh. Ehm... Ok, dimmi. È solo... Quando succedono cose come quella di stanotte. Sembra come prima che venissimo in città. Sembra quasi di stare a casa. Ha detto che sembra che noi godiamo quando le cose vanno male. Perché ci dà una scusa per picchiare tutti. Non ho detto niente perché non sapevo che dire. Ehm... Non è vero che mi piace quando le cose vanno male. Ma le cose vanno male, quindi io devo arrangiarmi. I can't finish the mirror. Ah, so, sapevo. Manca un pezzo dello specchio. Però ha fatto presto. Eh... Eh, Crane deve aver preso un pezzo per non farcelo ricostruire. Brutto bastardo. Ah, porca puttana. Non possiamo... Oh, possiamo far funzionare lo specchio anche se manca un pezzo? No, dati una calmata. Dobbiamo... Ok, allora cosa altro facciamo? Ah, se aspettiamo si risistema da sola. Qual è l'altra maniera? Dobbiamo indagare. Frugare. Annusa! Eh, è abbastanza intelligente da aver preso un pezzo dello specchio, però. Ok, allora indaghiamo alla vecchia maniera. Baskin, tu comunque continua a lavorare allo specchio invece di tirare la cacca. È più utile. Voglio parlargli. Magari... Magari mi dice qualcos'altro. Baskin! Non è che tu sia amico di Crane? L'hai visto... L'hai visto prendere il telefono? Voleva vedere la sua strega. Probabilmente è quella che ha travestito la troll in snow. Perché non l'hai fermato? Bene, effetti. Potremmo mica tirargli la cacca. È l'unica cosa che sa fare. Ok, ok, sei stato bravo. Non è colpa tua. Sì, sì, sei una brava scimmia, tira cacca. Ok. Ok, dai un'occhiata intorno. Blah, blah, blah. Serve a cazzo. Allora, ehm... Vediamo un po' qua sul banco di Crane. Il banco, sì, vabbè, la scrivania. Che cosa possiede? Vabbè, potevi guardare anche da quella parte. Non c'era mica bisogno di fare il c... Fogli. Niente di importante. Perché se no mi guarda così? E c'è. Ah, questi sono fogli stupidi probabilmente. Vediamo qua dentro. Che c'è? Oh. Oh, un libro segretissimo. Sono contenta. Ha delle facce strane. Allora. A quanto pare... C'è una pagina che manca. Però le cose che si leggono sono cose... Bafkin, che cosa c'era scritto qua? The Ring of... Eh, ma va, è un anello. Grazie al cazzo. Forse c'entra con la strega che sta andando a vedere. A provare. Deve essere riguardo quest'anello. Nessuno gliel'ha chiesto. Ehi! Calmi tutti quanti. È ubriaco. Ho un po' di paziente. Ok, deve andare da sta strega alle due di notte stanno... Oh, barba blu! Fuori dalle palle! Non è aggiustato lo specchio. Porca puttana! Il gatto è uscito dal sacco. Ah, vuole pure lui ammazzare... Eeeh... Bluebeard, vai fuori dai coglioni. Non sono affari tuoi, dai. Lui pensa che Crane sia l'assassino. Questo qua mi dà tanto l'impressione che non voglia la giustizia ma tanto picchiare Crane. Eh, sì, vabbè, ehm... Non sappiamo se è stato lui ad assassinare. Non è vero che è detto. Non è detto che sia stato lui. Non possiamo usare lo specchio in ogni caso. Quindi, dobbiamo andare all'appuntamento con questa strega alle due di notte. Di notte o di giorno? A.M. Ok, di notte. L'ha detto prima. Bluebeard, perché ti interessa? Sei un sacco di merda. Di solito non te ne frega niente. A quanto pare lui è un investitore in Fable Town. Ha messo i suoi soldi. Beh, Bluebeard in effetti è un pirata. È ricco, comunque. Ok, quindi Crane deve andare a prendere il stornello magico. Non sappiamo che cosa faccia o che cazzo serva. Però, potrebbe... Bluebeard, hai rotto i coglioni. Madonna. Ah. Bluebeard mi sta tanto sul cazzo. Sta criticando... Ehi! Sono io che comando qua dentro. Ok? Non rompere il cazzo. Sì, sì, vabbè. Mi stai molto simpatico anche tu. Ora, fuori dalle palle. Ah. Guardiamo il lato positivo. Sì. Abbiamo capito che deve andare a vedere sta cazzo di strega. Grazie a te. Sì, scemmia di merda. Ah. Abbiamo... Alcune ore per vedere... Per scoprire... Il posto dove doveva incontrare questa tizia. Dove dobbiamo andare a cercare? Ok. Lily potrebbe sapere chi è questa strega. Visto che è stata incantata. Per sembrare che sono quasi da lei. Quindi, magari... Potremmo andare a chiedere a Ollie. Bluebeard vorrebbe sapere che cosa ne sanno di Edam. Non mi riguarda questa storia. Dovremmo andare a picchiarli. Così magari ci dicono qualcosa. Le cose di Lily potrebbero aiutarci. Ma non credo che Lily ce le farà guardare tanto tranquillamente. All'appartamento di chi? Questo imbecille vuole andare all'appartamento di Lily. Ma di chi? Ah, di Crane! Beh, non è una brutta idea però, eh. Non... Non... Non ci vai tu dalla casa di Crane. Andiamo noi perché potresti rovinare le prove. Oh, porca puttana, è vero? Non è che possiamo trattenerlo qua, mentre ci lasciamo scappare il resto delle prove. Ah, che cazzo facciamo? Se andiamo a casa di Crane... Potremmo trovare degli indizi. Lui ci vuole andare comunque. Però d'altra parte, se andiamo a casa di Crane, non potremmo forse andare a investigare riguardo a questa strega. Ciao! Ciao.